ci sono ciao a tutti bentornati dopo una settimana ragazzi sapete che non è facile stare una settimana senza webinar launch per me non so devo capirla questa cosa perché cavolo una settimana io vedo Marco Montemagno ne sta facendo due al giorno tre al giorno si vede che c'è un cazzo da fare quell'uomo nel senso che probabilmente ha fatto un sacco di roba prima e adesso vive anche di come si può dire di di rendita no e sto leggendo il suo libro in questo momento lavorability che avevo già letto e lo sto ripetendo perché è molto molto bello e molto interessante siamo la puntata credo 84 se non vado errato nel frattempo buongiorno a tutti quindi parto con questo qua guardate che bel messaggio un minuto prima di iniziare arriva Fulvia che scrive non vedo l'ora di partecipare anzi di nutrirmi di sapere che meraviglia buongiorno Stefano Castanetto buongiorno Claudia che dice ciao Jasmine quindi c'è una come vedete abbiamo le persone che seguono Jasmine che oggi sono qui al webinar launch quindi questo vuol dire che Jasmine ha fatto un ottimo lavoro di condivisione vi ricordate gratifica condividi coinvolgi beh sappiate che sono molto arrabbiato con voi perché non state facendo gratificazione né condivisione né coinvolgimento dopo quattro mesi che vi ho tartassato le scatole niente come se non fosse successo niente nel frattempo buongiorno a Emanuella che dici buongiorno signori e signore buongiorno Antonella Voltan guarda che bella donna Antonella guarda che foto meraviglia buongiorno Sonia Genesini buongiorno Stefano Sartor buongiorno hey vacca buongiorno Paolo Demo eccolo qua Paolo Demo l'autore di questo credici qua che è un portapenne ma non solo fa mille cose buongiorno Stefano Amonini e anche Sonia naturalmente buongiorno Giuseppe Marconi insomma i saluti li abbiamo fatti andiamo a ringraziare gli sponsor e allora innanzitutto primo subito etiche srl che mi ha dato quella lavagna straordinaria che mi ha permesso di fare un tantissime cose tra cui il video corso che ho finito ieri per Scalise questo qua progetto perfetto dove io sono il primo dei dodici discepoli dei dodici relatori dove parlo di mindset e l'ho fatto grazie a quella lavagna straordinaria che si trova là che ben conosci ringraziamento super meraviglioso a Leonardin con il Raboso Suga e il Prosecco da Campioni e poi un altro grande 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 eccolo qua webinar pro di Luca Vanine company cerchi la perfezione di servizio regia che fa per te eccolo di fatti vedete che il mio servizio regia fa cagare perché perché non ho il team come quello di webinar pro quindi se sei un'azienda hai bisogno di fare un webinar di quelli meravigliosi chiama clinkon per condurlo ma chiama webinar pro per registare dei regi vabbè non so come si dice ma comunque fanno loro i registi andiamo avanti un ringraziamento a video marketing for business con questo piccolo fatto anche troppo video marketing for business e living media del grande placido lo sacco tutte queste persone non mi hanno mai dato del denaro ma etiche serelle mi ha dato la lavagna will be in però mi ha dato l'opportunità di avere la prima piattaforma go to webinar e mi ha dato tutte le dritte il buon placido mi aveva dato tutto lo studio e poi il lockdown mi ha tenuto a trieste e quindi è andata così ringrazio tutte quelle persone che hanno scelto di essere alla vacanza formativa si parte domani ragazzi domani si parte per moena quattro giorni si va a vedere il lago di carezza il porto i paneveggio e fuciade saranno quattro giorni straordinarie dove le persone entreranno in una nuova dimensione usciranno migliori di come sono entrate quindi grazie alle 15 persone che hanno deciso di essere la vacanza formativa e sapete che la vacanza formativa la si ripeterà a settembre dal 10 al 13 10 11 12 13 settembre sempre moena sempre i soliti posti qualcosa di meraviglioso gli ultimi saluti prima di iniziare quindi buongiorno giorgio balgera che corre come un dannato buongiorno e sabina e i g dice nessuno riesce a leggere il mio nome ti do una un consiglio tra parentesi scrivi come si pronuncia così è più facile e poi ultimo giuliano cola quindi basta con tutto questo andiamo a ringraziare le associazioni che abbiamo supportato penso sono io che ringrazio loro perché mi hanno fatto crescere come persona sto seguendo questi pazzi qua scatenati che si chiamano gli amici di federico per aiutarla per aiutare giorgia cusca una bambina malata di tumore vogliamo dare felicità alla famiglia non so se i nostri 100 euro possono fare la differenza ma faranno nella malattia ma faranno la differenza sicuramente nella famiglia che può vivere in maniera più tranquilla perché il problema più grande molto spesso non è la persona che è malata ma è tutti coloro che gli stanno intorno soprattutto i genitori quindi una mano sul cuore una mano sul portafoglio una mano sulla coscienza se vi piace questa puntata se quello che oggi io e jasmine vi regaleremo ma soprattutto jasmine vi regalerà lo trovate di valore fate un'offerta agli amici di federico fra un po vado a prendere il link e ve lo metto nei commenti così non avete nessun tipo di non mi viene la parola ma io non sapevo avete sia il bonifico bancario sia il paypal se non lo fate ricordatevi che dio non si è furlan se non paga oggi paga domani quindi occio signori e signori ladies and gentlemen tutto pronto sto per presentarvi una persona veramente straordinaria una persona che pensate ha dato la voce ai miei pensieri perché quando ero bambino io guardavo i cartoni animati e quindi quando sogni sogni con la voce di quei protagonisti capisci e c'erano dei personaggi incredibili ma non vi dico niente vi dico solo chi è e poi parleremo di tutto ciò signori e signori ladies and gentlemen bando le cianci cianci le bande miss jasmine laurenti che meraviglia tutti buongiorno a tutti e grazie per il tuo meraviglioso invito valter è un piacere grazie a te allora jasmine innanzitutto io devo farti la domanda scomoda che faccio sempre 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 che tu devi sapere che noi del webinar lunch di chi sei ce ne frega ben poco noi vogliamo sapere come impatti nella vita delle persone meraviglioso come impatto nella vita delle persone è strettamente legato al lavoro che ho svolto per 40 anni nella mia vita nei media e quindi dopo il mio risveglio capendo un po meglio chi sono e quale sia il mio scopo cioè il motivo perché sto qui a respirare allora ho cominciato tutta una serie di cose ed è bello ho capito il tuo trucchetto valter tu mi hai mollato qui mi hai chiesto qual è la tua mission nella vita come impatti il mondo vron sparisce ed eccomi qua ebbene sì allora per spiegarvi come tutto questo è successo per raccontarvi la mia storia dobbiamo partire dall'inizio perché altrimenti non sarà facile cogliere i parallelismi il linguaggio metaforico che userò e soprattutto la metafora della mia vita che è il lavoro di doppiatrice infatti premetto questo non me ne vogliano i colleghi non me ne vogliano i doppiatori italiani che sono i migliori al mondo se dirò le cose che dirò perché quello che dirò non ha che vedere con la professione del doppiatore o del doppiaggio ma con quello che per me in questo momento della vita rappresenta ho cominciato molto piccola a 13 anni ho capito che volevo diventare una delle voci che uscivano dalle scatoline magiche quindi ho cominciato in radio come speaker dopo dieci anni mi son detta non sto crescendo più che cosa potrei fare cos'è che potrebbe portarmi a esplorare un mondo nuovo e così sono partita alla volta di Milano per intraprendere la carriera della doppiatrice una carriera che devo dire mi ha dato delle soddisfazioni incredibili praticamente da subito c'è la gavetta vera e propria in realtà io l'avevo fatta a casa e questo credo sia di grande ispirazione per i miei allievi a cui insegno come parlare in modo carismatico e anche nella vita nella mia mission che è quella di rendere le persone consapevoli del fatto che è importantissimo riconoscere se stessi e il proprio scopo nella vita per rendere la vita un'esperienza degna di questo nome allora si è svolto tutto abbastanza velocemente si sono aperte le porte in maniera improvvisa una dopo l'altra con effetto domino e tutto questo ha seguito un sogno che io avevo fin da bambina per il quale avevo dedicato ore e ore e ore e ore delle mie giornate davanti alla tv ascoltando la radio per me la cosa fondamentale era ascoltare le voci e ascoltare la magia che una voce può creare dicendo determinate parole e dicendole in un determinato modo io volevo capire in che cosa consisteva questa magia entrare nel meccanismo capire come si fa ed è questa la ragione per cui da osservazione attenta quando mi sono recata a milano per il mio primo provino che mi avrebbe consentito di accedere alla scuola e quindi una volta uscita dalla scuola entrare nella sala di doppiaggio io sono stata scelta subito eravamo in cento più di cento tutti col pedigree tutti col curriculum il teatro che aveva fatto questo che aveva fatto quello e io ero lì a dire sai che c'è io ho solo coltivato un sogno con pazienza perseveranza tutti i giorni dimmi valte allora ogni tanto tu parli io scrivo delle cose tipo coltiva il tuo sogno con pazienza e perseveranza io ti farò ogni tanto perdere il tuo tragitto perché aprirò come farò adesso delle delle parentesi no coltiva il tuo sogno con pazienza e perseveranza che secondo me è uno dei problemi più grandi delle persone cioè le persone vogliono realizzare colitva ho scritto ma capisci che ho gravi problemi di dislessia coltiva coltiva il tuo sogno con pazienza e perseveranza quindi io cosa faccio ogni tanto scrivo queste cose proprio per enfatizzare quello che tu stai dicendo coltiva il tuo sogno con pazienza e perseveranza le persone invece vogliono tutto subito cioè il risultato deve arrivare dopo un mese dopo due settimane scrivi delle cose io per questo prima mi sono permesso di dire le persone c'è un principio che funziona che è il gratifica condividi coinvolgi dopo due mesi finito il lockdown e siamo ritornati liberi le persone più non lo fanno più cioè c'erano 100 200 persone che mi seguivano ogni giorno io che sono un furbone vado nei loro profili a vedere e vedono e vedo che non lo fanno perché perché alle volte qualcosa non ti dà subito il risultato bisogna coltivarlo con pazienza e perseveranza dai e dai 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 cioè è la goccia che scava la pietra ma quante gocce devono passare e la domanda è come mai sei riuscita a capire che quella era la tua strada all'epoca perché adesso hai cambiato ancora no quindi ci sono delle persone che pensano siccome io faccio questo oggi questo lo dovrò fare per sempre no invece ci sono dei momenti dove uno cambia quindi tu hai cambiato la prima volta quando sei andata a milano hai fatto questa cosa del del doppiaggio questo provino sei stata presa ma la domanda è da dove è arrivata quella pazienza e quella perseveranza c'è come hai fatto a capire che eri nel giusto e ti ha permesso di realizzare quello che volevi realizzare allora partiamo dal presupposto che un sogno parte da dentro sempre quindi se tu hai un sogno che ti batte forte nel cuore ed è lì e continua a bussare e a dirti io ci sono non è agendo all'esterno nella realtà esterna soltanto e per poco tempo che un sogno si realizza ma è diventando quel sogno cioè lasciando a quel sogno spazio in te fino a che tu diventi il tuo sogno e metti in atto i comportamenti necessari affinché l'universo si sposti e crei materializzi quello che tu hai sognato come ho capito la mia strada quale fosse la mia strada quale fosse il mio sogno della vita la mia mission è molto semplice è talmente semplice alla portata di tutti che troppo spesso forse come le cose che sotto il naso non le vediamo ho sempre seguito la mia felicità felicità non inseguita seguita cioè quando io sono felice nel punto in cui mi trovo vuol dire che sono sulla strada giusta sto realizzando quello che è nel mio codice genetico spirituale la mia mission vision se vogliamo allargare gli orizzonti quindi è molto importante prestare attenzione a quello che avviene dentro di noi perché è dentro di noi che si forma il sogno che nasce è come un piccolo embrione è come una gravidanza e poi se vogliamo nutrire quel sogno cominciamo a fantasticare a provare delle emozioni delle sensazioni a visualizzare quello che potrebbe diventare a calarci nei panni infine del protagonista di quel sogno e le cose intorno a te un po' alla volta le vedi materializzarsi il sogno della mia vita ho letto in qualcuna di queste domande qual era il tuo sogno da bambina da bambina io volevo fare due cose l'attrice la ballerina la cantante e la suora occhio perché di tutte queste cose nel mio tragitto non ho potuto fare tanto fino a che ho avuto intorno degli ostacoli che non potevo superare e mi riferisco alle autorità genitoriali per esempio o circostanze di carattere economico per cui lì non potevo passare ma sono barriere che una alla volta ho scavalcato diventando libera di scegliere davvero cosa volesse diventare anche se da un punto di vista cronologico potevo aver superato l'età e di fatti sono arrivata addirittura a organizzare dei concerti dal vivo cantando la bossa nuova in portoghese con musicisti bravissimi e a riempire il locale dove cantavo a quel punto mi son detta sono felice qui risposta no e quindi ho dolcemente abbandonato il canto non perché non avesse il talento naturale o non avrei potuto coltivarlo avrei potuto continuare a coltivarlo e a diventare che ne so quello che la vita mi avrebbe permesso di diventare in base alla forza del mio sogno ma ho capito che avrei potuto esprimermi in modo diverso facendo un po' tutto ok e concentrandomi sul messaggio ed è questo il bello perché di fatti io ho trascorso 40 anni della mia vita facendo l'attrice dietro le quinte perché nella mia famiglia fare l'attrice era un disonore cioè era un qualcosa che non ti permetteva di guadagnarti da vivere non era un lavoro serio e quindi scendendo a compromessi anche con questi limiti ripeto che erano oggettivi e io ero piccola non potevo impormi non avevo la maggiore età non potevo insomma fare quello che il mio cuore desiderava per poter fiorire allora ho cercato dei compromessi ma di fatto posso dire di aver toccato tutte le esperienze che da piccola sognavo di poter visitare come possibilità sono entrata nel campo delle infinite possibilità ho provato ho saggiato tutti i piatti che da bambina immaginavo di poter assaggiare e alla fine ho detto questo sì questo no questo sì questo no quindi continuo a cantare sì sotto la doccia mi faccio delle cantate incredibili mi piace mi diverte ma non è ho capito che non è il modo che Dio l'universo ha stabilito per me per essere eccellente nell'essere chi sono cioè portatrice di un messaggio e il mio messaggio è scopri chi sei e perché sei qui e poi fai della tua vita un dono e il dono è un dono d'amore guarda quando hai detto l'infinita come era quella frase? il campo delle infinite possibilità la prima cosa che mi è venuta in mente è questo libro qua Zero Limits di Gio Vitale che parla della legge dell'attrazione è un straordinario sistema huaiano per gioire di una vita meravigliosa in tutto ciò che è davvero possibile parla dello ponopono sì sì con me mi rendo conto che secondo me quindi come dico sempre quello che dico io non è la verità però si avvicina parecchio mi rendo conto che è veramente tutto nella nostra testa parlavo oggi con una persona via Whatsapp e mi sono reso conto nel frattempo fermi tutti perché ci sono Emanue Lago dice Jasmine sei incantevole amore grazie come dice Luca come ha detto Giovanni Paolo II prendete in mano la vostra vita e fatemi un capolavoro e Angelo dice Dio mio la amo wow uno alla volta però perché ragazzi miei allora il concetto è il concetto è mi sono reso conto ieri ho avuto un'illuminazione pensa cioè ieri ero qua a casa io ormai vivo tanto a casa e nel bosco e vivo poco in giro e una delle cose che ho sempre detto è che ho poco tempo cioè devo fare tante robe ieri dovevo fare il videocorso dovevo finirlo assolutamente perché domani parto quindi avevo un po' di cose e mi sono sempre detto che ho poco tempo e sai cosa succede quando dici che hai poco tempo? hai poco tempo allora ieri ad un tratto mi sono fermato e ho detto ma sai cosa? ma io ho tutto il tempo del mondo tutto cioè se guardo avanti ho tutto il tempo che voglio ed è cambiato qualcosa in me quindi non ho dovuto fare un corso di formazione fare i come si chiamano? i Carboni Ardenti andare da Tony Robbins andare alla vacanza formativa ragazzi per cambiare basta che al vostro cervello date il comando giusto non c'è altro la formazione io lo dico sempre è tutta fuffa perché non la metti in pratica cioè ti dicono tutto quello che ti dicono ma poi tu torni a casa e torni a fare quello che hai fatto prima per cinque mesi ho detto gratifica condividi coinvolgi e non entro adesso potrei condividere lo schermo e farvi vedere le castronate che avete scritto cioè il cambiamento non arriva perché hai fatto un corso perché il cambiamento arriva perché hai deciso di cambiare fine perché c'è l'infinita possibilità di tutto ragazzi di tutto e di più di tutto c'è di tutto e che voi non volete capirlo aspettate la vacanza formativa per diventare persone migliori aspettate Anthony Robbins per diventare una persona migliore aspettate la pensione per godervi la vita c'è gente che lavora e dice sarò felice quando vado in pensione sei un coglione perché non ci arrivi la pensione perché lo Stato anche non te la darà probabilmente o perché c'è gente che va in pensione e dopo una settimana muore ma c'è hai lavorato tutta una vita per vivere una settimana cavolo incomincia a vivere adesso in questo momento preciso alle 13 e 22 prendi coscienza che hai l'infinito davanti hai l'infinito come dice Jasmine hai l'infinito davanti sta solo a te a rendertene conto sta solo a te e io mi sono reso conto che ho tutto il tempo che voglio tutto tutto il tempo che voglio tutto cioè è una roba pazzesca e ieri mi è cambiata la vita perché dicevo ma io quanto tempo ho ma tutto il tempo che voglio e lì cosa è successo ieri ho finito il videocorso tutto già messo in chiavetta già tutto adesso devo solo montarlo ma ragazzi succede succede se ci credi ecco che il mio credici sta ritornando più forte di prima perché mi sono reso conto che le persone non credono in sé e quindi quando tu hai creduto in te Jasmine che sei diventata una doppiatrice hai fatto quante voci di quanti cartoni animati Walter aggiungerei un ingrediente importante alle cose senza crossante che hai detto e che sottoscrivo dalla prima all'ultima noi siamo dei recipienti riempiti fin da quando eravamo in culla anzi fin dal concepimento di informazioni queste informazioni non sono le nostre siamo diventati chi questa scatola gigante ha costruito un prodotto di questo sistema in cui viviamo allora se tu cerchi te stesso e lo scopo della tua vita credo che la strada più utile non sia tanto quella di continuare a riempire la tua scatola di ulteriori informazioni che qualcun altro ti ha dato perché ha appreso a sua volta predigerito preconfezionato e magari anche hai pagato qui si tratta proprio di svegliarsi come io a un certo punto in sala di doppiaggio doppiando dando la mia voce ai diversi personaggi e quindi arrivo a rispondere alla tua domanda Walter mi sono resa conto che prestavo avevo prestato fino a quel momento la mia voce ad altre realtà altri copioni scritti da altri altri messaggi altre parole non ero io a quel punto in me si è fatta strada l'esigenza di scoprire a chi dovessi dare la mia voce ora me la riprendo questa voce perché ho un messaggio mio ma il mio messaggio è veramente mio e da lì è partita quella via della ricerca spirituale che ha soddisfatto il mio desiderio di bambina di fare la sua ora nella mia ingenuità nella mia semplicità dicendo da grande farò la sua ora in realtà intendevo dire voglio conoscere chi è l'artefice di tutto quello che sto vivendo mal di fuori della scatola in cui sono stata inserita fin da piccola io voglio una cosa voglio la verità qualunque essa sia magari non la conoscerò per tutta la vita ci arriverò vicina vicina e poi mi sfuggirà ok ma quest'indole di ricercatrice continuo a spingermi in avanti a motivarmi a ricercare il motivo per cui tra tante persone per esempio solo pochissime persone sono consapevoli del miracolo di essere vive ci identifichiamo così tanto nei nostri lavori io mi identificavo così tanto nei personaggi che dovevo doppiare di volta in volta quando davo la mia voce ai personaggi di cartoon veri che non avevo più una vita mia cioè al di fuori della sala di doppiaggio c'è un'altra sala di doppiaggio noi viviamo in una sala di doppiaggio allora chi si rende conto di recitare un copione scritto da qualcuno con la coscienza che fa da direttore del doppiaggio e ti dice l'hai fatta bene l'hai fatta male l'hai recitata bene l'hai recitata male ti sei incollato ti sei scollato dal personaggio che credi di essere cioè finché non realizzi che sei uno spettatore di una vita scritta da altri non puoi risvegliarti ed è in questo risveglio che tu puoi Walter frequentare un corso e prendere quello che è il meglio per te per farti crescere finché non ti svegli davvero rimarranno informazioni a sedimentarsi ma alla fine diventi un pappagallo un ripetitore di ciò che altri hanno detto prima di te io sono qui posso fare scena muta anche fino alla fine perché ho detto tutto quello che dovevo dire guarda è meraviglioso i commenti che arrivano sono senti Antonella dice già sei sempre concreto sei esempio concreto di un percorso di consapevolezza aspetta lei è di parte è una delle mie migliori amiche ciao Anto ti adoro amore non vedo l'ora di rivederti che meraviglia che meraviglia e quindi come vedete bisogna prendersi la responsabilità della propria vita e di non delegare la responsabilità alle altre persone e di vivere e di vivere la vita di altre persone allora io nel frattempo sono andato a ricercare questa immagine perché ha a che fare con quello che hai detto che è questa qua te l'ho trovata bellissima e questi sono tutti i personaggi che hai fatto sì chissà se sono davvero tutti comunque sì ce ne sono tantissimi riconosco Maria riconosco Lamu Maria di Cantiamo Insieme Creta di City Hunter Sailor Venus e poi mille altri personaggi cioè ma tu eri Lamu allora Lamu ha avuto molte voci partendo da Rosalinda Galli la sua voce più antica ormai la doppiatrice è una persona che credo abbia non lo so credo non sia più operativa potrei sbagliarmi però comunque ciao Rosalinda lei è stata la prima voce io ho dato la voce a Lamu in quei lungometraggi sotto forma di cartoon che si chiamano Oav o una cosa del genere ma gli esperti di anime lo sanno sono termini tecnici per descrivere questi episodi lunghissimi che sono film praticamente che storia cioè quanto mi ha colpito quando ho visto i vari cartoni animati che io guardavo e dire cioè dopo 30 40 anni una di quelle cioè io ti avevo già sentito cioè io ti avevo già sentito cioè cioè e ci conosciamo da da quanti anni ormai da 40 anni perché t'avrò sentito no 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 e te lo dico per un fatto proprio di date anche perché così me li porterei davvero bene gli anni che ho dovrei essere una insomma vabbè aver superato una certa età in realtà il mio lavoro di doppiatrice è iniziato esattamente nel 1900 che già quando dici 1900 è un secolo comunque era il 1988 la mia prima era ancora un bambino ero avevo eri già nato Walter ma nonna 88 avevo 13 anni beh ma allora siamo più vicini di età di quello che pensavo anche tu te li porti bene io sono del 75 ne ho 45 ne ho spettacolo te li porti benissimo Walter quando fai le cose quando fai ciò che ti piace calcola che io non ho un titolare un padrone dal 2003 quindi ho qualcuno che mi dice ogni tanto quello che devo fare ma se non se non voglio dipendere da lui non dipendo da lui e io credo che l'essere dipendente dipendere vuol dire che pendi dalle scelte delle altre persone non ti faccia vivere la vita a pieno perché perché non puoi decidere e io ho avuto la fortuna a 28 anni di ascoltare una psicologa che mi disse Walter cosa vuoi fare da grande gli ho detto animatore turistico e gli ho detto perché non ci vai io avevo mille resistenze fino a che ho ceduto e sono andato e non finirò mai di ringraziarla a proposito di non finirò mai di ringraziarla me lo scrivo perché potrebbe essere anche un'idea non finirò mai di ringraziarla pensa che bella cosa che ho appena detto allora aspetta adesso ti dico perché guarda me la scrivo non finirò mai di ringraziarla perché ho deciso di fare un video ogni giorno con un ringraziamento a una persona che ha fatto parte della mia vita ogni giorno un video e all'inizio allora il primo nome che ho detto è ogni giorno un grazie ma mi piace anche il non finirò mai di ringraziare non so devo vedere e quindi ringrazierò delle persone ogni giorno ringrazio una persona ogni giorno ogni giorno se qualcuno forse gli risuona questa parola si chiama gratificazione se qualcuno ha capito qualcosa in questi cinque mesi che continuano a dire gratifica condividi coinvolgi ma io lo dico dopo prima o poi qualcuno lo capirà quando finalmente dirà adesso ho capito che cos'è gratifica condividi coinvolgi lo capisci quando il mondo ti manda una serie di cose meravigliose cioè ti riempie di vita che non vuol dire oggetti e non vuol dire altre cose vuol dire che ti riempi di vita e questo è il ritorno di gratifica condividi coinvolgi non finirò mai di dirlo allora leggo un paio di commenti vabbè allora Eigi credo che si dica così dice Creta Kaori il mio personaggio femminile preferito Cagliazzo dice diversamente anziano Marina dice ricercatrice ideatrice responsabilità essere vivi Angelo Caselli pensavo che i problemi di identificazione col personaggio interessassero principalmente gli attori e non avevo mai considerato i doppi attori ora ho una consapevolezza in più un abbraccio entrambi Angelo grazie del tuo prezioso commento Gesmin tanta roba vuol dire che è stato attento molto molto e Angelo proprio rifacendomi al tuo commento molto interessante ti dirò questo il doppiaggio fatto veramente bene è quello che non si sente allora io ti parlo della mia esperienza personale per cui non so le mie colleghe come si siano comportate o si comportino in sala di doppiaggio io mi portavo appresso il pacchettino di fattolette di carta perché poteva succedere di doppiare qualcosa di importante insomma poteva essere un litigio poteva essere una cosa non bella che il personaggio viveva in quel momento poteva essere qualsiasi cosa di non piacevole e veramente i momenti magici che ho vissuto quelli che mi hanno permesso di raggiungere le mie vette di performance come doppiatrice le devo proprio alla magia di essermi dimenticata di me stessa in quei momenti per abbracciare completamente il respiro i movimenti addirittura sai la mimica facciale perché incollarsi è questo tu devi dimenticare te stesso come doppiatore infatti credo che il mestiere del doppiatore sia il mestiere più difficile che ci sia in questo diciamo ambito attoriale perché è una specializzazione del lavoro dell'attore non è che è un attore automaticamente anche doppiatore cioè devi fare una scelta se vuole diventare anche doppiatore ma una cosa non presuppone l'altra quindi doppiare significa fare piazza pulita dell'ego e darsi con generosità al personaggio che è sullo schermo che in quel momento sei tu e tu sei solo no cancelliamo il solo sei l'espressione vocale di quell'anima quella situazione di quella storia a me fa l'impressione Alberto Sordi uno dei più grandi attori italiani che io credo che una delle sue grandi fortune è stata anche questa quando lui ha ha doppiato stagno e olio e io credo che grazie anche a quel doppiaggio lui abbia capito come diventare un attore migliore proprio grazie anche a quel doppiaggio grazie a a dare quella voce a quel personaggio così grosso e quindi doveva diventare lui ed è veramente interessante questo quindi riuscire ad entrare nel personaggio e riuscire a dargli la voce giusta a quella tipologia a quella corporatura tu prendi Alberto Sordi che era un fisico normale che doveva far finta di essere stupido a me fa fa troppo scena poi c'è una bella intervista su youtube di Alberto Sordi che rincontra dopo 50 anni quello che faceva Stan Laurel quindi quella che parlava è una bella scena una bella intervista perché si sono ritrovati dopo tanti anni dove Alberto Sordi ha fatto una carriera incredibile e invece l'altro non so aveva fatto una carriera normale ma la domanda è e poi tu non hai mai scelto di fare l'attrice e quindi dire oltre che la voce metto anche la faccia mi sono state fatte delle proposte alcune le ho accettate quindi ho avuto delle piccolissime esperienze in teatro ma non mi ha mai preso non ero felice al 100% facendo l'attrice e non puoi spiegarti perché Walter perché l'avevo desiderato da bambina tanto tanto da sognare di entrare nell'accademia di Vittorio Gas ma la Firenze all'epoca c'era oltre alla diciamo alle scuole tradizionali a Roma evidentemente era già iniziato in me un percorso di ricerca interiore tale da dire sì sarebbe stato l'ennesimo personaggio in cui identificarmi nella mia vita di tutti i giorni che però non corrisponde alla mia vera essenza infatti il motivo per cui ho appeso al chiodo per così dire il lavoro del doppiaggio è proprio il dire ora esco dalla sala di doppiaggio cerco me stessa e doppio me stessa ma non mi identifico più in un personaggio che credo di essere cerco la vera me sono un po' filosofica in tutto questo lo so forse un po' troppo seriosa un po' spirituale sai però è questo che è successo alla fine e quindi ho accettato volentieri tra l'altro Antonella la ragazza che ha commentato prima mi ha salutato eccola questa splendida donna lei è attrice di teatro scrive i propri testi a volte cura anche la regia dei suoi spettacoli mi ha coinvolto in uno di questi in qualità di suonatrice d'arpa celtica perché all'epoca avevo suonavo la mia arpina celtica e di cantante danzatrice quindi c'è ancora qualcosa credo ci sia ancora un documento in giro forse un video di quell'esperienza bellissima però ti dico non mi ci ritrovo ora per cui non ne ho più bisogno mi sento già gratificata per tutto quello che ho fatto e continuo a fare che bello allora se avete delle domande da fare potete porci già delle domande perché ho deciso che asciugheremo un po' il webinar lunch così possiamo già approfittare se ci sono le domande Sabina dice cara Jasmine io sono approvata in Accademia Artisti dopo aver fatto teatro mi manca il doppiaggio ti dirò cosa si prova e cosa succederà comunque un grazie sentito bello 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 grazie come dice Antonella hai fatto innamorare il pubblico io ho una curiosità che chiedo a Maria Rosa Marconi perché ha messo la faccia arrabbiata se c'è una cosa che non mi piace di Facebook sono le facce arrabbiate perché secondo me le facce arrabbiate minano la la bellezza mentre mettere una faccia arrabbiata crea secondo me una sorta di fastidio e quindi se mi risponde perché vedo qua l'unica faccia arrabbiata è Maria Rosa Marconi spiegaci perché ci hai messo la faccia arrabbiata forse abbiamo detto qualcosa di di cattivo di brutto sai che io ogni tanto dico qualche parolaccia e me ne può fregarne me non le dico perché fa parte del volgare del vulgus cioè della lingua del popolo perché ci sono delle persone che capiscono di più il modo di parlare della bella Jasmine che parla in una maniera delicata e poi c'è altre persone che ogni tanto hanno bisogno di un'ammazzata che gli arrivi che qualcuno che gli dica dai cazzo fai ecco punto non è e no ma hai detto e se non ti piace guarda ha sbagliato emoticon ha sbagliato potrebbe essere che ha sbagliato dice Luca Vanin che è una persona a cui voglio un sacco di bene perché devi sapere cara Jasmine se io ho incominciato a fare i webinar è merito di questa persona qua questa persona qua è il titolare insieme ad altre persone meravigliose di questa cosa qua che organizzano i webinar e io quando ho incominciato a fare i webinar il mio primo webinar praticamente quello che è successo è successo che non conoscendo e questa è una cosa bella è un feedback per tutti non conoscendo il mondo perché io sono un artista che va sul palco e lavora per le aziende e usa la magia come strumento per ispirare le persone dal vivo oltre ad aver fatto delle dirette su Facebook e quindi chiedo Luca come posso approcciarmi alla gente per parlare di comunicazione dove, in che e lui mi dice fai webinar ed ecco che incominciando a fare i webinar grazie alla piattaforma che lui come webinar pro mi ha messo a disposizione di GoToWebinar ho incominciato a fare talmente tanti webinar che mi ha permesso di arrivare ad avere una newsletter di quasi 2000 persone sono andato oltre le 2000 persone perfino adesso man mano ogni tanto qualcuno si cancella e non ho ancora fatto niente per recuperare persone nuove ma ci arrivo tanto c'ho tutto il tempo che voglio quindi non è un problema e quindi mi ha fatto conoscere un mondo che non conoscevo nel frattempo leggo di la vigna che dice grazie Walter e Jasmine un lavoro bellissimo il suo racconto ci sta donando tanti spunti oltre allo spettacolo e sono contenta per i nuovi progetti di Walter che ci pungola sempre a migliorare grazie alla vigna che capisci che il mio è un pungolamento per farti migliorare mentre altre persone lo vedono come come ci permette ma come sai è un problema loro dice Stefano Sartor che ha una paninoteca bellissima a Trieste che si chiama Bounty Pub e che quando faremo la vacanza formativa a Trieste andremo a trovarlo è vero Jasmine bisogna svegliarsi questo è il grande insegnamento che mi ha dato il webinar lancio in questi mesi una grande spinta quando ci si butta con paracadute si ha la paura di lanciarsi nel volto ma in realtà è la fase meno pericolosa del lancio è solo un blocco mentale che abbiamo il problema siamo noi non gli altri Jasmine sei fortissima tra l'altro vedo che sei circondato da Veneti Walter la mia terra d'origine tutti questi cognomi Veneti Sartor Vanin ragazzi io sono nata in provincia di Treviso praticamente alle pendici del Montello sulla strada del Prosecco quindi quando sento parlare di sai Prosecco quando dici Prosecco devo far vedere il Prosecco Leonardin che è il mio sponsor principale ed è interessante perché adesso ormai ci rido come vedrai ma è bello che il mio sponsor principale sia una cantina vini e io sono il figlio di un ex alcolista e quindi questa cosa è meravigliosa ragazzi meravigliosa perché secondo me bere sì responsabilmente sono anche per ogni tanto ti prendi un'ubriacatura ci mancherebbe altro Walter aspetta un secondo Stefano Sartur dice io sono di Montebelluna io ho vissuto tantissimi anni a Montebelluna da quando avevo 6-7 anni fino alla mia adolescenza più o meno quindi conosco bene Montebelluna e il Prosecco quindi che bello che bello che abbiamo anche il coraggio di ridere delle cose che nella vita ecco ci sono cose che nella vita ti hanno fatto piangere e che adesso riesci a riderci sopra sì sì una di queste forse la più importante è che avevo come la maggior parte dei bambini che volevano un po' di attenzione ecco sono cresciuta con questa ipersensibilità e questa facilità ad offendermi una permalosità dovuta alla mia insicurezza la cosa la conquista più bella che questo percorso di crescita personale mi ha dato è sicuramente riuscire ad essere autoironica cioè mi prendo in giro al punto che ho imparato a prendermi in giro con buonarietà amandomi accettandomi perché un conto è prendersi in giro e farlo con la vocina interiore sei la solita sei il solito che non riesci a fare un tubo no 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 è proprio rido delle mie battute mi sono simpatica in questo periodo di lockdown o comunque lo si voglia chiamare devo dire che ho sofferto pochissimo mi è mancato l'abbraccio della mia migliore amica che è famiglia per me ed abita nella mia città ma non è che ho sentito come posso dire perché questo deriva dal fatto di aver trovato un equilibrio interiore e soprattutto aver instaurato un buon rapporto con se stessi quindi diventare genitore di se stessi è fondamentale in questo processo io sono diventata la mia mamma il mio papà ho interiorizzato le figure genitoriali mi prendo cura della cucciola che ancora in me che ogni tanto sbarella me la porto stretta al cuore e le dico ma dai su fatti il tuo piantino tanto poi sai che ci sono io no a risolverti tutte le cose e quindi è meraviglioso è meraviglioso e come e come dice la nostra amica Luciana Landolfi tutto andrà bene sì tutto andrà bene e aggiungo e aggiungo soprattutto per prevenire le solite battute di chi dice eh infatti vedi no allora come dice Luciana giustamente il tutto andrà bene è iscritto nel DNA spirituale di ogni essere umano ed è il dato su cui si fonda la vita stessa lo stesso universo funziona grazie alla fiducia che tutto andrà bene la vita vado a ricerca del libro perché ce l'ho aspetta ce l'ho anch'io se vuoi ce l'ho dietro le mie spalle ma se ci alziamo in due poi lasciamo il pubblico da solo allora ragazzi qui viene la storia tutto andrà bene una filosofia di vita non è una frase scaramantica ah ecco sì pensavo respira come se fossi felice ma ho pure quello spettacolare ce l'ho anch'io tutti e due ce l'ho tutti e due ho intervistato Luciana per tutti e due i libri è bellissima bellissima penso che ho ritrovato un'intervista che ho fatto a Luciana quattro anni fa e che lei ha condiviso su youtube ad aprile dove lei quattro anni fa diceva proprio il concetto di tutto andrà bene che è pazzesco quindi non è che se l'ha inventato tre mesi fa è una cosa che gli arriva da sua nonna quando la gente parla parla perché non sa e prima di parlare dovrebbero contare fino a 8.747.326 tutti cadiamo tutti nello stesso tranello ah sì sì se ci sono domande fate pure domande nel frattempo ringrazio tutte le persone che hanno condiviso il la diretta e vi do una chicca in più quando la condividete coinvolgete tre persone cioè scrivi Marco guarda questa diretta perché se non coinvolgete ho fatto l'esempio proprio con Angelo Cagliazzo se non coinvolgete le persone le persone non leggono guardate i post che ha fatto Jasmine ultimamente dove lei viene a raccontala tu cioè tu fai un post dove tu sei la ospite mia e cosa fai tu presenti me cioè rendetevi conto lei poteva fare il lavoro egoico di dire ok io sono ospite io sono ospite invece no non dice io sono ospite ma lo dice tra le righe parlando di me quindi dà visibilità a me nel suo gruppo e come avete visto oggi c'erano persone che seguivano che seguono lei che magari domani seguiranno anche i prossimi webinar lunch ma vi rendete conto che se fai il post per dire io io l'ho scritto oggi ragazzi io sono io so io vendo avete rotto le scatole dovete coinvolgere le persone nei vostri post coinvolgerli se no non serve questa bella scatoletta che ci hanno creato sono strumenti meravigliosi ma imparate ad usarli gratifica condividi coinvolgi nel frattempo moris lesmore che è il suo nome d'arte che mi ha regalato un libro vediamo se lo trovo subito guardalo guardalo perché è bello se guardi guarda che bel libro che mi ha regalato spettacolare guarda che roba guarda che roba guarda che guarda mamma mia solo come è scritto c'è anche i saluti i ringraziamenti moris lesmore amava le parole amava le storie amava i libri la sua vita era un libro che scriveva lui stesso guarda che come è scritto sto libro moris lesmore ha una libreria vicino a torino o forse a torino anzi capo horn via lancia 31 20 a torino eccolo qua ha una libreria e con lui ho sempre detto se volete dei libri moris scrivi la tua email ordinate da una libreria non da amazzoz che non è che è sbagliato prendere da amazzoz ci mancherebbe altro prendete pure da amazzoz quando vi serve ma se potete quando potete prendete da una libreria che poi vuoi quel libro entro due giorni hai ragione prendi amazon ma ci mancherebbe solo che io cosa facevo io avevo messo durante il webinar lancia avevo messo dei come si chiama i codici dei libri perciò che se la gente compra io guadagnavo un euro e alla fine ho detto alla fine se ne vendo dieci di libri ho guadagnato 10 euro cosa mi cambia secondo me invece il più bello che lo comprate da lui direttamente non è che diventerà più ricco però facciamo vivere le librerie facciamo parlare le librerie diamo aria alle librerie le librerie ormai sanno di chiuso sanno di 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 cantina hanno la puzza di muffa perché perché la maggior parte dei librai sono rimasti chiusi lì dentro mentre Morris Lesmore ogni mattina sai cosa fa alle 6 e 30 fa una diretta del mattino dove parla dei libri ogni mattina una diretta queste sono le cose belle quindi se vi servono libri prendete che contattate Morris Lesmore che insomma che fa bene fa bene fa bene ascolta per mandate pure un messaggio privato ma perché Amazos Amazos perché se tu prendi un libro da Amazos devi sapere che i librai tendenzialmente chiuderanno quindi più andiamo avanti a comprare da Amazos più i librai chiuderanno quindi comprate dai librai il che vuol dire che se non ce la fate e vi serve comprate da Amazon ci mancherebbe però ricordate che chi lavora da Amazos lavora 20 ore al giorno cioè non è un lavoro lavorare lavorare lì capite è un lavoro in un magazzino chiuso per guadagni come in un call center ragazzi cioè svegliatevi fate lavorare le librerie fate lavorare la cultura giusto comprare nei negozi Nicodemo ripeto non vuol dire che solo ne io solo no no fate quello che vi pare fate quello che vi pare io ve lo dico posso dire due parole sul commercio domani mattina in diretta bravo Morris Lesmore bravo quindi ritornando al tragitto che hai fatto tu quindi passione Milano vai studi diventi la voce degli altri la porti talmente tanto dentro di te perché ti immedesimi dopodiché esci ritrovi te stessa diventi perfino genitore di te stessa e qual è il prossimo passaggio devi sapere Walter perché in questi tre anni in cui non siamo rimasti in contatto sono successe delle cose molto belle ho un bellissimo tesserino da giornalista e quindi ho coronato il sogno di poter avere un patentino che mi consente di accedere anche ai luoghi normalmente preclusi alle persone diciamo tutti noi ecco e questo per dirti come il fatto di aver interiorizzato un sogno al punto di diventare il tuo sogno e indossare i panni di chi sei davvero con lo scopo per cui sei stato creato ti porta inevitabilmente a realizzarlo sono le cose che arrivano a te non sei tu che insegui le cose quando sei pronto dentro fuori la realtà manifesta realtà con mille virgolette intorno perché qual è la realtà secondo me la realtà ce l'abbiamo tutta qui dentro comunque sia troviamo le manifestazioni concrete dei nostri pensieri dei nostri sogni addirittura più atavici quelli di quando eravamo piccoli bambini quelli che avevamo magari dimenticato l'importante secondo me perlomeno questa è la mia esperienza personale continuare a rimanere collegati con noi stessi nel profondo e chiederci ogni giorno se siamo felici perché attenzione essere felici non vuol dire non passare difficoltà essere felici non vuol dire non piangere non arrabbiarsi non indignarsi essere felici non vuol dire non avere mai più momenti di scoraggiamento essere felici vuol dire essere consapevoli che tutto quello che stiamo vivendo è funzionale al raggiungimento del motivo per cui siamo vivi e questo compensa qualsiasi sacrificio e quello che agli occhi dei più potrebbe sembrare una carenza una mancanza una stersità in realtà è un pieno perché è una rinuncia momentanea per avere un giorno quello che tu già porti all'esistenza con la tua fede che meraviglia c'è una frase di c'è una frase che mi sono porto via scusami no volevo dire una cosa dille dille allora sono un po' ovunque mi sono montata la testa sto scherzando naturalmente ma la casa in cui io vi accolgo a braccia aperte vi aspetto è il mio canale youtube che si chiama jasmine laurenti basta digitare nome e cognome nella barra della ricerca di youtube trovate il mio canale iscrivetevi e attivate le notifiche e continuiamo a viaggiare insieme guarda qua guarda qua guarda qua già fatto già fatto già condivido grazie anche se jasmine yeshua777 è il vecchio nome cioè vabbè comunque funziona lo stesso il link credo funzioni lo stesso sì guarda io sono entrato ottimo sono entrato qua tac tac aspetta schermo uno qua eccolo ecco può essere trovato anche se in fondo dopo user slash digitate jasmine laurenti ma sei bravissimo guarda tac vi ho trovato tutto tu scrivi jasmine laurenti qua e trovi tutta spettacolo bravissimo grazie giuliano ti aspetto ci avete un sacco di cose molto molto belle guardate 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 il talk show guardate il talk show mi fai un po' ridere Valper mi fa ridere il modo in cui parli sei bellissimo guarda sai che oggi oggi mi ha fatto morire un mio amico di Roma perché ho fatto un post su 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 instagram dove io dico spettacolo ma in maniera differente adesso io dico sempre spettacolo con la con la p più grande come se fosse 4s e una p grande spettacolo amici spettacolo e c'ho sto mio modo di parlare così che fa show fa show fa clink con show eg dice jasmine oggi ha portato noi sui seguaci in questo canale più o meno come una mamma porta i suoi figli con sé quando va a casa dell'amico che bello grazie eg tanta roba meraviglia io pascoli iscritta è bello ritrovarti e ascoltarti jasmine giuliano cola grazie a te un sorriso limpido palo di quegli occhi oltre a quello della bocca wow quello che volevo dire prima ha a che fare con virginia satyr che era una psicoterapeuta che veniva studiata da bandra e le grinder e c'era una frase che io mi porto sempre dietro che uso durante il mio numero del filo che è la vita non è quella che vorresti che sia la vita è quella che è la differenza la fai come la affronti e la maggior parte delle persone affronta la vita aspettandosi che la vita dovrebbe essere come volevano loro e siccome la vita non è come la vuoi tu entrano in frustrazione entrano in fastidio in cattiveria e diventa tutto un viverla non bene ecco perché è importante accettare quello che c'è se c'è un lockdown stai a casa se ti dicono metti la mascherina mettite la mascherina e non rompere le balle se gli altri fanno anche adesso c'è c'è questa crociata sul fatto che c'è qualcuno che fa le feste e tutti i giovani sono perché voi quando eravate giovani ma sareste chiusi in casa ma non fate i moralisti cioè usate facebook per trovare le cose belle e per non rompere le scatole dai perché quello che succede è quello che succede veramente vivete la vita per quello attenzione hai detto il mio nome giusto comunque se vieni più semplice mi si può chiamare Tom ehi G ti chiamo ormai l'ho imparato quindi prendete la vita per quella che è guardate che cioè Jasmine cosa ha in mano cioè guardate come la vive lei è Ondina Waiblet cioè sono io con i capelli corti quando ho dato vita al progetto multimediale che ha lo scopo di ispirare le persone a essere come l'acqua e quindi come hai detto tu giustamente Walter quanto più noi siamo così ci lasciamo andare al flusso della vita la vita è più intelligente di noi ha già capito tutto la vita è la vita dobbiamo fidarci lasciarci andare questo non vuol dire che non possiamo sognare e mi riallaccio al discorso della frustrazione Walter la frustrazione nasce quando noi non siamo coerenti con chi noi siamo nati per essere e non stiamo perseguendo lo scopo che è iscritto nel nostro DNA spirituale quindi accettare la vita com'è sì allo stesso tempo cercando in noi le risposte perché quando le avremo trovate ci saremo portati in coerenza allora tutto il resto fluirà con questo direi che possiamo concludere questa puntata straordinaria del webinar lunch cioè con questa frase abbiamo detto tutto io ti ringrazio Jasmine sei stata veramente dolcissima bellissima carinissima e disponibilissima grazie 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 e io devo ringraziare come sempre quelle persone che mi hanno dato l'opportunità all'inizio di essere qua che è Prosecco e Raboso di Leonardo in il mitico webinar pro è etica srl e poi tutte quelle persone che non vengono mai nominate perché all'inizio inizio 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 quando è cominciato a fare le prime puntate c'era Maurizia Rimondi che mi dava una mano ed è stata fondamentale per l'inizio come Vasco che adesso non mi ricordo il cognome Vasco Vasco che all'inizio del lockdown erano lì presenti mi dava una mano a lui sulla parte della newsletter e poi tutte le altre persone Marcello Daleno Giancarlo Moretta alla fine Paolo Demo Cristina Corazza Tiziana Iozzi insomma ce ne sono tante di quelle persone che hanno dato l'opportunità al webinar launch di arrivare all'84esima puntata ora abbiamo sfoltito tutto perché non si poteva più fare il webinar perché avevamo 20-30 persone iscritte quindi non serviva più perché la gente è ritornata nella vita normale e si è dimenticata di noi del webinar launch allora l'abbiamo messo su Facebook in maniera tale che uno se la possa guardare quando vuole le più tardi alle 3 alle 4 alle 5 alle 8 rimane online basta prendere il link e la potete condividere dove volete e quindi niente io vi saluto domani si parte per la vacanza formativa che sarà un momento veramente straordinario perché porterà le persone a fare un bel giro a 360 gradi della propria vita andiamo a Moena in Val di Fassa ringrazio Gianluca Marchesoni dell'hotel La Soldanella che ci ospita e niente Giosmingo finisci facendo un saluto e poi diamole a rivederci la prossima settimana a mercoledì prossimo ore 13 o forse il giorno primo al giorno dopo che ne so ormai probabilmente farò come Montemagno e comincerò a farne di più però quando mi va però sempre le ore 13 senti Walter mi approfitto per invitarti nel mio salottino virtuale nel mio canale YouTube molto presto quindi sappi che questo è solo l'inizio della nostra storia d'amore in digitale allora ecco quando sarà sarà ma sarà sicuramente quindi allora guarda che bello allora Gio dice tempo di qualità con due persone meravigliose grazie Gio Stefano dice le dirette di Morris e Smorr sono super persone che do una passione e conoscenza attraverso i libri Antonella grazie Gias grazie Walter da buona venta grazie al prossimo sponsor numero uno Leonardo Valentino vallo a trovare perché è meraviglioso grazie Giancarlo grazie Sabina la foto dobbiamo fare la foto giusto grande la foto è così bisogna mettersi con le braccia così e far forza per dire al nostro corpo che siamo forti mettiti così devo mettermi così vai così vai aspetta che tiro via la foto aspetta 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 tac vai 3 2 1 via allora loro ci fanno lo screenshot che dopo io utilizzerò questo per ricordare al nostro corpo che siamo forti ragazzi siamo forti perché questo è un segno e il nostro corpo lo riconosce quindi quando siete in un momento di down fate così e vedrete che riprendete la forza grazie Manuel Lago prima di andare ci fai un pezzo di personaggio che più ti è piaciuto attenzione wow il personaggio che più mi è piaciuto caspita ce ne è tantissimi che mi sono piaciuti anche tanto beh il personaggio che ho più amato è sicuramente quello interpretato da René Zellweger in My One and Only che si può trovare ancora credo in DVD o insomma è un on video e parlava però con la mia voce tutta così era molto Marilyn era estremamente dolce e vellutata e così poi aveva i suoi momenti un po' capricciosi ma tornava a essere una persona profonda in alcuni momenti che meraviglia che meraviglia ascolta prima di finire devo fare una cosa molto bella chiedo a tutti quanti voi di scrivere un aggettivo che qualifichi quello che è successo oggi quindi se vi è piaciuto non vi è piaciuto vi ricordo che se vi è piaciuto mettetevi una mano sul cuore e fate un bonifico o un paypal agli amici di Federico sapete che dal giorno che ho incominciato a parlare di Giorgia Cus abbiamo raggiunto ben 700 euro calcolando che nei tre mesi quattro mesi precedenti avevamo fatto 8000 euro stiamo per raggiungere 9000 euro dati in beneficenza e punto ad arrivare almeno a 10.000 euro ora nel mentre voi scrivete tutte le cose io vado alla ricerca vado alla ricerca del di dove si trova il paypal che così potete fare subito il pagamento vi ricordo che basta un euro da un euro a 100 euro vanno bene tutti non rimanete tirchi non siate tirchi ragazzi pensate le persone che stanno un po' meno meglio di noi ok eccolo qua quindi dona eccolo qua bam questo è il tasto e questo è paypal così non potete dire eh ma non lo sapevo eh ma qua e ma là quindi preparati perché sto per farti un sacco di complimenti ok allora questo è il tasto paypal perfetto quindi come potete vedere questo è il tasto dove trovate l'ibam e questo qua è per fare il paypal non avete scuse non avete scuse andiamo a farti la parte finale che è quella che mi piace di più che è Antonella dice illuminante Emanue dice spettacolo grazie mille Giuliano dice essere come l'acqua grazie Jasmine Joe dice fantasma gorico andiamo avanti Age dice aggettivi per oggi interessante indimenticabile che bello Giorgio Gatta dice meraviglia Mara Cecilia dice entusiasmante grazie Sabina dice superlativa Federico Maggi mi saluta perché è un amico carissimo e Emanuele dice Jasmine sei un dono insomma con questa frase qua Rosanna Topi dice emozionante io vi ringrazio ringrazio Jasmine per avermi donato un'ora e dieci minuti della sua vita preziosa e meravigliosa grazie l'appuntamento è la prossima settimana non so dove non so come non so quando non so con chi non so perché non so se lo farò forse sì forse no chi lo sa si vedrà che bello dopo me lo sono registrato perché mi è piaciuto come l'ho detto e diventerà un mio tormentone sono fatto così persona di una dolcezza e sapienza disarmante grazie Jasmine va bene meravigliosa Jasmine rimani pure che così parliamo ancora un attimo chiudo la diretta ciao a tutti ci vediamo prima o poi credici perché se non ci credi tu chi ci deve credere ciao ciao